Claudia Santoro Revisio 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 Grazie, grazie veramente e buonasera. veramente ringrazio per l'invito di parlare di queste cose in un contesto così ricco di informazione, di sensibilità dentro una città che infatti amo bene perché ci sono stato, non posso dire, avevo 22 anni ma mi è restata in mente totalmente perché ho ancora due o tre fotografie bianche e nero assolutamente caratteristiche di Pistoia vuol dire mi fa grande piacere di ritrovare questi monumenti di un tempo per me, diciamo l'idea è, la sfida per me oggi diviene sempre più come accogliare l'onda di fondo che sta arrivando nel cambiamento civilizionale non solo, come dire, di stile, di moda neanche veramente di ideologia no, di cambiamento di grande fondo un esempio intanto su la distribuzione delle innovazioni e le conseguenze di questa innovazione su vari tipi di relazione che noi intratteniamo con il linguaggio la grande costante, diciamo, della società umana è la sua condivisione a un modo o a un altro del linguaggio che è il più grande mass medium il più complesso di tutti però quando questo linguaggio è portato dal corpo un indeterminato numero di culture orale si scambia tra la gente e in tempo reale e non si può ricordare salve con una tecnologia di memoria integrata al corpo perché non c'è scritto un linguaggio molto potente che controlla il corpo queste 300 generazioni sono quelle della scrittura allora la scrittura rovescia il rapporto corpo-linguaggio a questo punto ho esternalizzato e fissato il linguaggio su qualche supporto l'ho messo esternamente di me adesso l'integro dentro, diciamo, il mio pensiero lo faccio mio prendo potere sul linguaggio molto diverso di essere diritto dal potere esterno dell'oralità diciamo bene, questo è già una differenza enorme e l'accelerazione diviene tecnologie tutti quanti a partire dal momento che abbiamo la stampa perché la stampa moltiplica tutti gli effetti della scrittura e l'alfabeto essendo di tutte le scritture quello che veramente controlla il linguaggio perché è una sequenza di fonemi e di sillabe che rappresentano veramente il linguaggio vuol dire un potere completo bene, allora la domanda è questa la problematica essendo che adesso il linguaggio è portato dall'elettricità abbiamo una, diciamo, una decina, docina generazione di cambiamenti di strumenti elettrici sempre andando verso l'idea che abbiamo rappresentato qui della trasparenza l'era elettrica, questa è la trasparenza la più bella una fotografia che fa vedere insimultimamente tutta l'elettricità aperta nel mondo e che fa vedere, per esempio, che la Corea del Nord è assolutamente nera ma questo è, diciamo, la presenza dell'elettrica nel mondo l'elettricità nel mondo e non parlare del digitale non parlare dell'elettronico la base, la base del rapporto tecnico con il linguaggio è l'elettricità dal momento che diviene digitale diviene un rapporto enorme che succede è il matrimonio del linguaggio con l'elettricità sulle linee del telegrafo questo è il primo momento è un po', possiamo dire, come due forze di natura due digli dell'Olimpo un livello di matrimonio fenomenale di potenza perché il massimo di complessità del linguaggio si sposa con il massimo di velocità della luce e questo è il conseguenzo di questo sono arrivando adesso questo povero ragazzo si chiede che sta succedendo succede questa una maturazione velocissima della rete dal telegrafo alla radio al telefono alla televisione internet www mosaic yahoo blog mondi 3d social media twitter cloud computing ciascuna volta un salto sull'altra ciascuna volta una velocità in più un contenuto in più un allargamento in più una complessità in più una relazionalità in più veramente una cosa come allora siamo ancora in ritardo no? di capire esattamente che succede passiamo dell'intelligenza privata quella che era il dono della scrittura dell'alfabeto del fatto che interiorizziamo leggendo le cose dando silenzio al linguaggio per controllarle meglio e tornare la sua propria mente che è un laboratorio di vita quotidiana di conoscenza di progetti di destini adesso passiamo alle architetture di intelligenza diverse collettive connettive vuol dire scambiamenti io mi sento e penso che tutti di voi potrebbero simpatizzare con l'idea avendo un telefonino nella tasca di essere come un nodo di un ipertesto di tutti i fonti siamo nodi di ipertesti con configurazione di connettività assolutamente crescente di potere di complessità di precisazione motori di ricerca sapete che l'inventore della più grande fortuna del mondo è un italiano di oggi parlo Massimo Marchioni che ha inventato Page Ranking Page Ranking è il modo di fare ricerca che dà a Google la sua possibilità l'invenzione è cognitiva benché lui non sapeva che lo faceva l'invenzione fondamente lo è cognitiva l'idea di cercare qualcosa non solo perché abbiamo un rapporto tra la definizione e l'oggetto no perché la quantità di gente che cercano la stessa cosa conta come una valutazione della sua pertinenza wow Marchioni non ha non ha penso approfittato così bene di Larry Page dell'invenzione si chiama Page Ranking perché Larry Page si chiama Page questo è abbastanza carino per dire noi abbiamo una situazione di complessità permanente di questo grande mondo esterno di questa mente aumentata che abbiamo che sta facendo questa immagine nel mio discorso infatti è con coerente vi spiego tutti conoscono tutti conoscono la problematica della grande inquisizione associata con la Spagna ma è successo un po' in Italia e piuttosto in Francia dove è nata intanto il problema era questo il problema della grande inquisizione era la questione la questione la domanda precisamente perché era un momento quanto di che la gente potevano infatti avere un'idea diversa della comunità mantenerla segreta e chiudersi su se stesso e per la chiesa e già serbata del tempo servava e per abbastanza lungo durante questa orrenda transizione tra il medievo e i tempi moderni questa orrenda transizione la domanda era di stirare la risposta vera o no dell'eretico bene big data il nuovo grande inquisitore quello del nostro tempo devo spiegare che big data per me all'inizio non ci ho capito niente pensavo semplicemente che si trattava di un'estensione di questa cosa che nel business si chiama CRM che vuol dire Customer Relationship Management che vuol dire come trattare bene il cliente sapendo un po' di più su di lui avendo il suo profilo e sapendo le cose beh veramente le cose hanno maturato da questo tempo però mi ha stupito il fatto che big data è un salto di paradigma a partire della cultura digitale big data è un accesso permanente immensamente complesso infinitamente variabile a tutti i dati che possono o non essere pertinenti su ciascuno di noi a chiunque vuoi servirsele e già in esistenza come mi propongo di far vedere noi conosciamo certamente tutti questi organismi organismi biometrics digital cash prepaid smart cards copyright password farò vedere più dopo e corporate global id tutto questo sono informazioni in sospeso e sono in sospeso da diciamo già vent'anni non è una novità siamo già stati come dire semi tracciati nel mondo della pratica delle varie forme di governo su questa data va bene lo chiamo già all'occhio del dio medievale il dio medievale che potevo vedere dentro la tua anima sapere se tu eri colpevole o no la domanda da dove vengono le data all'inizio sembra innocente la realtà sempre aumentata di per esempio google glass google glass è un modo di avere a disposizione il mondo per un click o un clandoy no queste funzioni vengono non è che google glass sia a disposizione adesso ci sono problemi con google glass che non voglio discutere però però e ci torno dopo google glass è veramente il mondo in faccia il mondo in faccia una connessione intimissima tra la mente e il mondo ma diciamo che serve per esempio a darti varie informazioni sulle condizioni l'ambiente dentro di che tu ti trovi e quando qualcosa lo trovi più facilmente che veramente sembra in assoluto servire molto bene e serve certamente tutto questo serve anche il telefonino in tasca che succede? succede che siamo tutti occupanti della rete sono tre spazi da occupare nel mondo attuale c'è quello fisico che condividiamo adesso c'è quello mentale che è ancora più o meno privato e c'è il cyberspazio che occupiamo a un modo o un altro sette ore al giorno ma forse di no per alcuni diciamo però va bene occupare la rete vuol dire dare accesso essere pubblicato diciamo vediamo se posso vedere questo sì è meglio di fare così che sono le cose che possono essere tracciate su di me che sono le cose che ho detto Agora Typepad che sono le pubblicazioni che ho deciso fotografie parole musica o testi dove lavoro che faccio lì che sono le cose che sono dette su di me allora i programmi sono disponibili dove si può trovare le cose che penso le cose che voglio fare tutto questo mondo è disponibile a partire come l'ho fatto vedere prima di cose già diciamo a disposizione di ciascuno non abbiamo le applicazioni per fare le correlazioni necessarie però diciamo è a disposizione sono 64 fonte di date che sono date di nuovo a disposizione senza che interviene qualche spia o qualche legge che sia sono già diciamo basta semplicemente un giorno dire oh mi interesserebbe di stare su questa persona questa configurazione si trova un modo di diciamo farlo farlo facilmente e allora credito l'uso finanza personale il mio email blogging le varie cose che compro medicali si può immaginare diciamo questo non è una lezione non faccio percosa semplicemente a me per dire che più o meno legittimamente si può sapere già un sacco su di noi allora va bene ok è già un problema ma un problema è un problema su di che torniamo e di più e di più possiamo andare nella bella piazza del Duomo e c'è una bella ragazza che passa voglio fare un contatto con lei faccio una fotografia vado sulla rete vedo chi e come si chiama e come contattarla che è un modo ancora abbastanza civile di incontrare le persone ma diciamo è un po' invasivo no? questa è la cosa che sta succedendo adesso succede adesso che abbiamo siamo sempre di più tracciati tracciabili a partire di strumenti che sono tutti abbastanza innocenti però messi insieme creano una situazione che fa ridere un'artista americana che ha deciso di fare come una satira della situazione portandosi per tre giorni fuori e faceva un po' freddo fuori nella strada facendo il suo facebook e tutto il suo chat da fronte di tutti per semplicemente sottolineare il fatto che siamo nella condizione dovrediché la nostra vita privata diviene sempre più pubblica allora questo è ancora diciamo la situazione come era prima dei big data ma con i big data un'altra cosa con i big data è tutta questa zona di fatti e di cose che non sospessiamo per niente di immaginare pertinenti ma lo sono perché ritmi si analisi le configurazioni di questi big data sono sempre più sofisticati sofisticati per sapere esattamente che vogliamo fare ciascuno di noi minority report allora esagero esagero sembra di sì sembra di sì sono pazzo non sono generalmente invitato di fare notizie brutte e infatti non penso di arrivare a notizia brutta però però questo mi fa sapere che sto parlando di una cosa in corso le elezioni di presidente Obama del 2012 sono salvati all'ultima minuta con la sua fenomenale conoscenza del big data che lui ha permesso lui e la sua equip evidentemente di contattare ciascuno dei target votanti a un modo assolutamente aggiustato per dire avendo un big data capace di dire che sono di là e di qua le varie di intenzioni e di desiderio di diversi gruppi che erano importanti per lui di come dire sollecitare di sollicitare il loro voto ma vabbè ok questo va bene almeno c'è un presidente che mi conosce sì sì io adoro alcune di queste cose perché sono divertenti questo per esempio questo è questo è un è un solo semi big data e big data precisamente per il tipo di mentalità che pensa a fare questo tipo di ricerca e la distinzione o la categorizzazione dei tipi di tweet twitter mandati prima del capodanno riflettendo le risoluzioni di capodanno nessuno di voi fate risoluzione del capodanno ah non è una cosa italiana ah mi dispiace no no io allora veramente io pensavo che era pertinente allora vi spiego la risoluzione del capodanno è quella che l'americano media e anche il canadese fa all'arrivo del capodanno quest'anno sarò bravo quest'anno sarò molto più capisce no non si fa qua meno male grazie il paese è salvato chiaramente diciamo bene ma questi 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 sono in rosso simbolicamente amore sono messaggi d'amore sono promesse d'amore sono non sono d'amore anche verso l'altro una cosa carina detta orientamento verso l'altro immaginate le macchine per analizzare automaticamente queste nuance esistono va bene allora tutta questa zona rossa è la zona dell'amore la zona blu è la zona del otto mi migliora io sarò più più forte la prossima volta che parlo con la moglie qualcosa del genere e il verde è il denaro farò più farò più soldi vabbè si può studiare no? vi la lascio se volete però la cosa è una cosa incredibile che e questo è ancora a un livello diciamo anonimo in senso che anonimo intanto che la distribuzione delle statistiche messe di questo modo non distinguono una persona di un'altra vuol dire è un uso innocente è certamente è certamente utile della è un cambiamento di sensibilità questa sensibilità diciamo statistica con la visualizzazione di situazioni che prima di tutto non abbiamo per niente capito però però esistono e su di questo avrete bisogno di essere connesso ma veramente non è importante di farlo vedere salve che questo programma che si chiama Digital Mirror questo programma è un sistema che permette a un capo d'industria di seguire sul lungo termine i patterns non so come si dice in Italia patterns modelli diciamo di comportamento dei suoi impiegati con una precisazione che porta su i rapporti di amicizia o di ostilità tra impiegati le cose che hanno discusso tutto via mail blog loro blog via mail e facebook studio automatico le discussioni che hanno avuto sulle cose pertinenti la tendenza a dire ok questo non è il mio problema passandolo a un altro tutto questo essendo tracciato diciamo sul lungo termine della durata dell'uso dell'impiegato questo non è talmente carino però 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 è anche legittimo padrino padre come dire il direttore paga l'impiegato si dà questo tipo di diritto il diritto che si dà la polizia americana è anche molto precisa e fa vedere la facilità no che la tracciabilità dei telefonini spenti o non spenti di persone permette di progressivamente identificare quante persone sono ancora insieme in una zona critica se prendono tutti i telefoni immediatamente la macchina elimina questi che non sono più qua e di là e di là per arrivare sono due insiemi la faccio vedere per dire la semplicità di questo tipo di algoritmo ma ci sono un sacco che sono abbastanza più complessi diciamo questo è semplicemente un'immagine un'immagine della configurazione di questo sistema di data diciamo a questo posto qua corrisponde una città che era completamente rifatta al centro degli Stati Uniti che si chiama Bluffdale dentro di che 10.000 persone lavorano a sapere tutto su ciascuno di noi allora io ho parlato di questo come l'inconscio digitale tutte queste date che diamo alla alla situazione per dire ai banchi di dati fanno che abbiamo un inconscio che è ripresso a partire di interessi privati quelli dell'impresa e che sono rimessi diciamo portando targetando nostro come dire i nostri gusti questa è una delle possibilità diciamo le più le più positive e su di questo possiamo dire che l'inconscio digitale tutto che si sa su di te che tu non sai che l'inconscio digitale ha un'influenza che è molto positiva può avere un'influenza molto positiva ma può anche avere un'influenza molto negativa e molto pericolosa il problema essendo che arriviamo a una situazione di trasparenza della persona digitale allora che vuol dire persona digitale la persona digitale vuol dire e sono più di una tutte le configurazioni di data su di noi tutti i cosiddetti profili curriculum vitae statistiche di vita documenti tutta questa crea più persone digitali su di che noi abbiamo praticamente niente potere salve quello di curare il nostro profilo certamente su Facebook o su Twitter e ancora sappiamo bene che Facebook prende possessione di tutte le cose che si mette dentro per dire intanto questa 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 situazione di trasparenza non farà niente che continuare di più andare più avanti per esempio vi faccio vedere questo che è una tecnologia che si chiama Emotive un nome infatti abbastanza speciale Emotive sono 16 punti che si mettono ho provato sono 16 punti di riferimenti neuronali sul cervello non invasivi che possono condizionare a partire da riperimenti di concentrazione di pensiero sui varie colori calmare diciamo mettere tutto il colore verde verde o blu per arrivare a partire dal momento che siamo pronti a muovere un oggetto sul schermo ok l'ho fatto non ci penserebbero di parlare se non l'avevo provato io e l'ho provato a un tal modo che sono convinto che questo è uno dei primi passi della connessione diretta tra il pensiero la mente e la rete sì è una cosa incredibile fino adesso è ancora diciamo è l'entrata del del cavallo troiano troiano è l'entrata ma non è ancora perfettamente dentro diciamo salve che il big data crea una situazione di rovesciamento del pubblico e del privato che voglio dire l'invenzione del privato è quella del rinascimento del voto unico del soggetto politico sociale democratico optico analitico tutto questo è il personaggio privato dentro uno spazio pubblico di cui ha parlato benissimo oggi ancora all'Incaillet questo spazio pubblico e siamo ancora diciamo una piccola città bellissima e ben curata come Pistoia e perfettamente capace di conoscere la condivisione di questo spazio spazio pubblico dentro di che si pubblicano le cose ma la situazione oggi è il fatto che non si pubblicano più niente tutto automaticamente archiviato e l'accesso a questo come vi ho già spiegato è sempre più come dire però il problema è che non c'è sparità né simetria della trasparenza che noi debbiamo il problema è che noi possiamo essere alla disposizione di un'inchiesta come ha detto il grande inquisitore per qualche tipo che sia senza saperlo e senza essere in un modo di rispondere né 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 diciamo sapere le intenzioni né la come dire la disposizione della parte della della gente che sta spiegando l'altra cosa che ho già menzionato un po' è la la questione del Google Glass ma io dico la cosa di Google Glass che mi stupisce questa questa intimità tra il sguardo dell'utente e questo sguardo neutro del mondo questa l'arrivo di questa immagine letteralmente è il punto di è il momento della rete per il momento dell'utente e questa corrispondenza è enorme e io mi chiedo se questo essendo a due sensi non potrebbe essere molto pericoloso siamo literalmente a una situazione dentro di che se non prendiamo veramente coscienza della situazione siamo a navigare una linea fragile tra l'inferno e il paradiso l'inferno arriva brutalmente sì questo è il problema per questo che si tratta c'è un'ansia un'ansia nuova un'ansia c'è non è ancora molto molto cresce però non è ancora molto molto forte questa ansia della tracciabilità però abbiamo certamente conoscenza delle forze della polizia per avere accesso ai data in America molto più sofisticata che in Italia benché in Italia anche ha la sua polizia perfettamente capace però l'attratatura funziona negli Stati Uniti ladri evidentemente ladri di informazione chi da voi ha avuto infatti l'esperienza come l'ho avuto una volta io che qualcuno ha usato la mia carta di credito per pagare qualcosa che non ho comprato succede vabbè ma questo non è un grande non so quanti di voi avete visto Persons of Interest nessuno vi ricomando anche tradotto in italiano Persons of Interest è una serie di di televisione che ha più quantità affascinante perché parla di una macchina fatta da un genio che studia letteralmente tutti i personaggi della città o del mondo in questo caso ma particolarmente di New York e ciascuna di una situazione permette a questi personaggi di salvare qualcuno di un crimine o di qualche cosa del genere la cosa stupenda è che questa macchina è già passata non siamo già una situazione che corrisponde diciamo a questo tipo di macchina allora abbiamo un fenomeno che è assolutamente stupendo il ritorno della cultura della vergogna perché perché dice cultura della vergogna perché evidentemente nella cultura orale dentro di che l'interiorità della persona non è molto sviluppata non è che ne è assente ma non è veramente colta coltivata la dimensione comunitaria della vita mentale di una persona orale è più importante che diciamo la sua propria condizione benché c'è sempre un equilibrio particolare tra le due allora l'orientamento della responsabilità della persona della cultura orale è verso l'altro verso la famiglia verso il clan verso il padre verso il fratello è sempre verso l'altro se nessuno ti aveva visto fare il crimine non sei colpevole non l'hai fatto tu sei unicamente responsabile verso l'altro nella cultura orale e queste sono le culture è detto della vergogna e non sparisce mai questa dimensione quando cambia di cultura ma chiaramente che succede che una volta che abbiamo passato nel mondo della scrittura e particolarmente di questa scrittura alfabetica che interiorizziamo la responsabilità non è più unicamente verso l'altro perché adesso sto scrivendo il mio destino perché adesso sto a fare crescendo questa interiorità la mia responsabilità è verso di me che devo fare con me e questa è la cultura della colpevolenza la colpevolenza è un vergogna interiorizzata bene allora abbiamo ancora questa però Freud si è occupato di sbarassarne diciamo che Freud arriva alla fine della storia dell'interiorizzazione dell'uomo la problematica attuale è di sapere dov'è la responsabilità di questa zona elettrica è globale questo lo sappiamo è globale dal momento che abbiamo accesso al globo siamo responsabili del globo è una logica pura di dire questo però il ritorno della vergogna anche si esprime di questo concetto americano che si chiama reputation capital il capitale della tua reputazione di nuovo ancora è troppo timido la o timida la problematica per essere di grande cominciamo fretta nella cultura italiana ma l'azienda già soffre o vince della sua reputazione in linea e di infinità di motori di studio della reputazione sempre più a disposizione delle persone che vogliono fare commercio accordi qual che sia vuol dire che la sua reputazione è una cosa che è certamente adesso da curare quando si chiama imprese o azienda però certamente pure quando si chiama una persona individuale perché i ragazzi mettono un sacco di tempo su della loro giornata a riempiegare la loro bacchecca e raffinare il loro profilo anche questo è un sistema diciamo che e su di questo io ho sempre detto l'educazione nazionale dovrebbe considerare questo come un'urgenza come insegnare a ragazzi di curare la loro persona digitale la loro bacchecca le cose che dicono tutto questo dovrebbe assolutamente essere una priorità ma nessuno ne parla bene non vogliamo restare su all the bad news questo è più o meno the good news questo è la dimensione veramente sociale della rete che chiaramente non è più come dire una novità salve che quando ci pensi specialmente io ho pensato io a partire dalla primavera araba quando ci pensi il movimento veloce transfrontiere transculture di queste emozioni come occupy wall street o los indignados tutti questi movimenti che sono così funziona un po' questo sistema come un sistema limbico un sistema limbico sociale la rete prende l'emozione la fa attraversare a velocità virale e la danno a un modo talmente concentrato che danno questa forza enorme che quando l'emozione ti porta tu vai nella strada per presentarti ai fusili non mai dimenticate che le emozioni giocano un ruolo enorme nella cultura enorme anche positivo evidentemente ma anche evidentemente la porta verso la violenza quando succede cose difficili se no non si fa bene intanto io vedo la cosa la più positiva diciamo è che questo sistema limbico crea anche emozioni globali non so se voi ricordate questo momento carinissimo di non so più quando esattamente free hugs quando la gente nel mondo interno si abbrasciava nelle strade perché c'era questo questo youtube che raccontava la storia di quest'uomo in Sydney in Australia per dire come globale la cosa per dire come emozionale questo ragazzo portava sul dorso una 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 fisce che diceva io do abbraccio abbraccio gratuiti prima la gente guardava che vuole questo cretino una vecchia una vecchia donna decide che vabbè perché no e va e abbrascia questo ragazzo così carinamente nella strada un'altra persona vedendo che è successo perché non è anche lei perché non è anche lei viene vabbè a seconda c'è una terza questa continua e sempre questo ragazzo è seguito da un cameraman perché lui voleva chiaramente fare qualcosa ma lui non si aspettava che a un certo momento la polizia arriverebbe per dire questo è vietato non si può abbracciare in pubblico che è successo? è successo che la legge di Sydney è una legge che permette alla gente di cambiare una decisione locale a partire di 10.000 firme e allora tutto il resto del film è la quantità di gente che firmano per arrivare a 10.000 a che punto la gente si buttano anche sui poliziotti per abbracciarle ma cosa allora questa ha circolato nel mondo intero e ha fatto che durante due o tre mesi la gente si abbracciava nel mondo intero diciamo io sono stato nella strada di Rambla di Catalogna per vedere la gente abbracciarsi andando con questo e questa cosa bene la cosa è un'emozione globale un'emozione positiva un sentimento che è chiaramente virale o questo o questo anche vi ricordate quello? chi non l'ha fatto Gangnam Style? vabbè l'idea che Gangnam Style questo ciccione di Correa che fa una satira di una parte della città contro l'altra può interessare un miliarde e cinquecento milioni di persone in meno di un mese è una cosa per dare semplicemente la forza enorme di questa comunicazione virale emozionale che la gente condividono tra di loro bene tutto questo essendo come ho detto c'è un pericolo vero ci dobbiamo prevedere e su di che dobbiamo rispondere ma non è necessariamente una cosa che è assolutamente catastrofica la cosa che dobbiamo sperare era un po' l'idea di tutto il discorso di oggi la cosa che dobbiamo sperare è che eventualmente dalla gente dalla base non da qualche ideologia qualche sia emerge con la pratica e con un po' di riconoscimento del cambiamento in corso un'etica nuova un'etica che chiamo l'etica della trasparenza perché non possiamo essere tranquillmente così proseguti del potere non possiamo avere una situazione politica che tolera questo o almeno che chiamarlo semplicemente tirannia però a un momento la gente decide ci torno un po' rapidamente che saranno gli elementi di quest'etica nuova chiaramente la condivisione la conferenza di stamattina di Alain Cayet sulla domanda quanti di voi avete sentito Alain Cayet siete stati molto fortunati veramente è stata una conferenza importante perché lui ha spiegato benissimo la problematica del dono e siamo in una situazione dentro di che quando parlo di un'etica nuova vedo assolutamente nel suo discorso la possibilità che torna adesso questa molto molto antica modalità relazionale che era la relazionale del dono come spiegata da Marcel Mauss assolutamente forte chiaramente accettazione reciproca delle grandi differenze culturali transculturalismo cura dell'ambiente decrescenza di Latouche questa è l'idea di Latouche tanti di voi sentite anche Sergio Latouche parlare della decroissance è certamente una cosa che dobbiamo prendere sul serio e lui ha fatto di su di questo una grande cosa però però abbiamo una situazione interessante come tutto si sa su di tutti e tutto apparece il momento dentro di che un certo tipo di comportamento esce di questa condizione esce di questa situazione allora si può fare due o tre cose si può fare una una semplicemente di contare sulla forza dell'intelligenza dei hacker per continuare di proteggere la nostra identità questo si può pensare però non ci credo troppo finalmente non è il destino dell'elettricità l'elettricità è trasparente basta vuol dire che l'elettricità non va a lottare con se stessa diciamo no l'idea è che questa trasparenza noi crea una situazione dentro di che siamo alla siamo tutti personaggi pubblici e per questo parlo del rovesciamento pubblico privato il nostro privato rende nostra situazione come ciascuno individualmente i personaggi pubblici e questo non può fare altrimenti che cambiare il comportamento però crea anche la possibilità di nuovi che l'aristocrazia greca che era il potere delle persone per bene le bourgeoisie che ne so però l'idea è fondamentalmente che le persone migliori avevano un diritto di controllare giudicare che ne so l'aristocrazia l'idea è questa nella cultura elettronica potrebbe farsi che ritorno a questo concetto nel concetto della trasparenza intanto abbiamo una nuova responsabilità la possibilità di rispondere crea la responsabilità questa è anche una legge fondamentale della situazione attuale perché oggi possiamo rispondere vogliamo rispondere e rispondiamo con tweet con facebook con email con qualche sia però ci siamo ci siamo continua evidentemente la responsabilità verso l'altro viene di nuovo continua la responsabilità verso di sé siamo in una situazione ibrida tra la colpevolenza e la vergogna però abbiamo una nuova dimensione e la nuova responsabilità è evidentemente l'insieme 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 con armonia l'insieme con pace l'insieme con ordine funzionante l'insieme e questo discorso l'ho sentito tutta la giornata oggi questo desiderio di farlo così di avere un mondo che facciamo veramente insieme non è un sogno di un sogno come dire di illuminato è un cambiamento così grande e su di questo dobbiamo sempre essere come dire attenti è una trasformazione così grande e molto più veloce che quella del rinascimento un rovesciamento di valori rovesciamento di vita sensoriale rovesciamento dei rapporti con gli altri rovesciamenti di sistemi politici su di questo cerchiamo infatti un equilibrio particolare dobbiamo come ho detto prima costituire e gestire la persona digitale e questo porterà io penso parlando della nuova estrocrazia la meritocrazia il fatto che tutti ossessi ciascuno di noi tutto questo essendo creando nuovi tipi umani diciamo c'era certamente un nuovo conformismo e il conformismo è dalla natura umana conformismo ma non il conformismo del mondo della televisione e certamente non il conformismo del modo fascista benché l'elettrofascismo non solo è possibile è stato tentato per esempio da Mubarak durante la primavera araba in Egitto quando lui ha voluto fermare internet a tutti come la Cina ancora vieta di andare su Facebook che tanti altri siti no c'è una censura c'è un controllo certamente che continua di essere diciamo di tipo totalitario ma non la problematica sa che non sarà un conformismo fascista sarà più un conformismo di maniera di maniera un conformismo di maniera non è per niente fascista certamente buttare le cose nei cestini pagare pagare le tasse ci andiamo anche questo questa è una cosa interessante anche di come dire riflettere due secondo resistere all'adultero perché si sa tutto o lasciare perdere l'ansia sessuale il rapporto al corpo cambia come il rapporto della mente a ciascuna grandi cambiamenti diciamo del supporto del linguaggio orale il corpo la scrittura e adesso l'elettricità ciascuno che spesso succede cambia la sensorialità cambia il rapporto all'altro e cambia il rapporto al corpo io sto riscrivendo io sto escendo adesso un libro che si chiama Il punto di essere il punto di essere è la risposta dell'elettricità al punto di vista del rinascimento il punto di vista tu ti metti fuori e guarda al mondo il punto di essere il tuo corpo e dentro sei partecipante nella realtà virtuale sei dentro il mondo virtuale non da fronte questa situazione è molto diversa sul piano della sensibilità io non lo so se di nuovo tutta la cosa freudiana il rapporto strano della chiesa con il sesso e le problematiche sessuali questo possono cambiare penso che nel medievo per esempio la vita diciamo a questo livello era molto più loose cool senza era molto meno come dire controllata che lo è adesso e già vediamo nel matrimonio dei gay per esempio che è legalizzato una tendenza verso una liberazione realmente dicendo vabbè fanno le cose che vogliono e questo che vuol dire perdere l'ansia sessuale c'è certamente stato il rapporto al corpo che era stato più o meno ben descritto da Freud e altri ma che è stato certamente un rapporto al corpo completamente prigioniero della scrittura prigioniero di questo condizionamento sensoriale che abbiamo con la lettura e per questo diciamo la trasparenza definirà l'etica del futuro e l'etica del futuro la persona che non paga la giusta misura di tasse non sarà considerata come un eroe ma come una persona di basso livello sociale e questo oggi non viene in mente per un governo stupido di veramente pagare le tasse con piacere certamente no perché tu sai perfettamente che questa se queste tasse sono spiegate faccio un po' di politica rapidamente lascio perdere però diciamo no è questo il problema ma pagare le tasse a un momento una cultura a parità simmetrica quando tu puoi sapere tutto su di me io voglio sapere anche voglio sapere tutto su di te e su di questo se abbiamo tempo c'è una piccola storia divertente che è successo in Canada però diciamo questo l'idea che possiamo immaginare una società dentro di che pagare le tasse diviene un sentimento di vera condivisione un sentimento che sarebbe vicino delle cose che ha detto Alain Cahier questo pomeriggio parlando del dono e la cultura del dono e la cultura del partaggio un ritorno di questo siamo alla ricerca di un nuovo equilibrio sociale fondamentalmente non possiamo fare senza non possiamo fare a meno di avere la parità della trasparenza un sistema politico non può sostenere nell'era della trasparenza nell'era della rete dei big data un sistema politico non può sostenersi salve con la forza e la violenza una situazione dentro di che questa situazione è assimetrica dobbiamo avere accesso a tutti questi dati e poi verificarli e eventualmente questo suggerirà ma non si sa quando tempo prenderà questo non si sa l'impresa sarà onesta rispettosa dell'ambiente sarà obbligata intanto il problema è questo che cambiare sì non è facile noi non è che non abbiamo una dimensione morale che dire cambieremo così no no questo emerge della situazione dell'essere connesso dell'essere che condivide tutto emerge naturalmente questa situazione dentro di che un volto ti trova un giorno sto adesso pensando a questo che non pensavo mai allora sarà esigenza la trasparenza del del governo e deve essere a due sensi però oggi è piuttosto così un po' per tutto tutto per dire che sono questi elementi di riflessione per elaborare un'idea di un mondo che viene io voglio concludere dando un po' elementi che ho imparato oggi che mi hanno veramente affascinato di Alain Cahillet questa divisione dell'interesse per sé e dell'interesse per l'altro che ha veramente una come diciamo se si trova nelle culture antiche è normale di questo diciamo è un è un grande segno di speranza un grande segno di speranza perché questo è un modello che non solo è intellettualmente capibile però anche emozionalmente e possiamo vederlo in applicazione quest'idea che a qualche tipo di incontro o di scambio che abbiamo tra di noi c'è sempre questa doppia presenza di te e di me o di altri e di me cosa molto cristiana per dire però non solo cristiana adesso sto vedendo la situazione di che le grandi valori cristiani sono quelli che sono i valori di sopravvivenza sono quelli che arrivano che emergono come quello che finalmente devono guidare la nostra sensibilità possiamo essere cristiani o no questo non è questo il problema è come organizzarci e allora le conseguenze di questo sono enormi mi sembra e anche questa bellissima cosa dell'obbligo e della libertà la possibilità invece di pagare le tasse dare le tasse lo so che sul piano del calcolo sarà una cosa un po' difficile però vedete l'idea l'idea di cambiare di atteggiamento ma fortemente ma anche per essere molto più piacevole molto più piacevole adesso il sistema è assolutamente spiacevole per tutti anche quello che lo direzcono dirigono è così è questo io devo dire allora ringrazio anche dell'attenzione e voglio semplicemente dire che fortuna ho avuto assolutamente di essere con voi di parlare di queste cose sono pronto per le richieste ma anche fortuna di avere la possibilità di sentire questo corrente che si esprime con altre voci è meraviglioso grazie grazie grazie